Allora, prego, me lo riprendo tra un attimo. Grazie. Come vedete qui si fanno piccoli traslochi. Allora, Gianni, posso andare? Allora, buonasera, benvenuti tutti nella Libreria Rotondi, voi che siete qui e anche chi ci segue online. Questa sera parleremo di astrologia, lo faremo con Paolo Crimaldi. L'occasione è stata la pubblicazione del suo nuovo libro, L'Astrologia dei cicli della vita, scusa, Iniziazione all'Astrologia dei cicli della vita, pubblicato dalle edizioni mediterranee e abbiamo il piacere di avere anche Gianni Canonico, il fondatore e presidente del gruppo editoriale, direttore, come ti... Ok, poi lo preciserà. Beh, molto umile, esatto, molto umile. Dunque, dico appena due cose su Paolo Crimaldi, che immagino molti di voi già conoscono e seguono da tempo. Allora, Paolo è laureato in filosofia e in psicologia, studia da molti anni l'astrologia e cerca di trovare un linguaggio che integri l'astrologia con la psicologia e la filosofia. È autore di molti libri di questo tema e alcuni tradotti anche in altre lingue e molti pubblicati dalle edizioni mediterranee. Ricordo, per esempio, giusto per citarne qualcuno, Iniziazione all'astrologia karmica e Iniziazione agli amori karmici. Sì, a cui abbiamo la lista di tutti, anche Iniziazione alla terapia karmica, Iniziazione alla psicologia karmica e ho detti tutti. Sì, sono tutti. Paolo Crimaldi tiene anche la rubrica dell'oroscopo quotidiano nell'ambito del mattino di RAI 1. RAI 1. Bene, quindi benvenuto, grazie di essere qui, sia a te ringrazio che anche Gianni e a cui passo direttamente la parola. Io sarò brevissimo perché l'attesa è ascoltare Paolo e non meno. Vorrei solo ricordare alcune cose, che veramente i libri sono sette. Il primo fu da me pubblicato esattamente 25 anni fa. Quindi, stasera festeggiamo l'Ausse d'Argento. Il legame più lungo della mia vita. E tutti i suoi libri sono stati e sono dei long seller. Allora, chiedo, faccio una piccolissima domanda a Paolo, ma tu, interprete degli asteri, se fai un orosco per me di pubblicarli oppure no? Perché non è facile avere dei libri che durano nel tempo 25 anni, perché veramente a distanza di 25 anni sono veramente attuali ancora. Quindi questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio e perché chiaramente avere un autore come Paolo, che è anche per me un grande amico, anche posso dire anche un figliolo, perché c'è tale una differenza di età tra me e lui, che potrebbe essere tranquillamente mio figlio. E poi mi piace ricordare che è una mia scoperta. Sì, una mia scoperta, e me lo dico in due parole, 25 anni fa appunto, e mi ricordo passare, io sono nato nella vecchia Roma, via di Monte Giordano, e allora c'era una libreria, che forse qualcuno di voi ricorderà, l'Agla si chiamava, dove all'angolo via di Panico, angolo via della Campanella, dove nacque poi il bagaglino, il famoso bagaglino. E io andavo a trovare mia madre, che abitava ancora lì in via di Monte Giordano, ancora su questa terra, e mi fermai nella libreria, che era il nostro grande cliente, e nel sottoscala, che c'era un piccolo spazio, e c'era un signore, un ragazzo, perché 25 anni fa era una ragazza, adesso è un bel signore, ha perso pure i capelli, i bianchi, e rimasi affascinato di come presentava questo, di come parlava, e dico, questo va bene per me. Nasceva in quel momento proprio la collana, l'iniziazione, e gli proposi di scrivere un libro. Infatti il secondo della collana, il numero due, è iniziazione alla storologia carnica. Questa è una breve storia così, tanto per arricchire questo personaggio al quale noi siamo molto legati, al quale vogliamo molto bene, e auguriamo tutti lunga vita, e tanti successi, tanti successi, long sale, e possibilmente con le mediterranee. Allora, prendo spunto da quanto ha detto Gianni, riguardo ai libri, soprattutto a come è fatto a capire che potevano essere i long sale, sono sempre libri nati dalle fine delle storie, quindi sui libri sull'amore io ho chiuso, ve lo dico subito, non ho intenzione più di, come dire, di rimetterci in termini personali, no, ci scherzo molto, ma in realtà un libro nasce sempre da uno stimolo personale. Quelli sull'amore nascevano da storie che erano finite non proprio bene, qualcun altro invece da una storia che era partita molto bene. Questo libro invece di stasera, come il primo tra l'altro che ho pubblicato, di astrologia, in realtà questo sarebbe il mio secondo libro, il terzo, perché il primo era una piccola monografia su Chirone, questi due libri diciamo, ah no, perché sentivo un, questi due libri sono particolarmente, come dire, miei. Il primo, astrologia karmica, devo dire grazie a Gianni, perché ebbe un coraggio veramente estremo, perché parlavo per la prima volta di un argomento, una delle prime volte, un argomento che faceva arricciare il naso anche agli stessi astrologi. Figuriamoci, a le persone che erano, già l'astrologia veniva mal digerita, aggiungiamoci vicino, la reincarnazione e tutto il resto appresso, era, come dire, quasi un sacrilegio, un'ulteriore eresia. Poi non ci bastò questo, e nel 2000 uscì Amori Carnici, che devo dire, molti hanno comprato più per il titolo che per il contenuto in sé, perché era un libro di astrologia, comunque di fondo. Poi da lì in poi invece è nata tutta la serie dei vari tipi di Amori Carnici, Destinici, eccetera, eccetera. Però, diciamo, che questo invece è un libro di arrivo. È un libro che, diciamo, ho scritto, sinceramente ho scritto in due o tre mesi materialmente, ma è un libro che ho scritto negli ultimi dieci anni, prendendo appunti, lavorando soprattutto a 360 gradi, un po' su tutte quelle che si chiamano le scienze umane. Ho lavorato tenendo conto sì, dell'astrologia, ma ho lavorato anche tenendo conto di altre cose molto interessanti, come chiaramente la teoria dei cicli in psicologia, che per me chiaramente è un lavoro anche parallelo, essendo uno psicoterapeuta. Ho lavorato sul discorso dell'antropologia culturale, che è stato il mio primo amore, e qui vedo parecchi testi di, che ne so, di Tucci, che tu hai avuto, come dire, il piacere di conoscere, non so se era stato un piacere conoscendolo. Non credo. Era un po' pignolo. Era un pignolo molto carino, come se era molto grande rispetto a me, era un ragazzo. Quindi mi diceva, mio caro, mi diceva, mio caro. e Alfonso Di Nola è stato il mio insegnante, Alfonso Di Nola è stato il mio insegnante di antropologia culturale e storia delle regioni, e Marino Freschi, il mio insegnante di letteratura tedesca all'università, che poi abbiamo, lungo la strada, abbiamo scoperto di avere interessi comuni. E questo libro, quindi, nasce un po' dall'incrocio di tutte queste mie esperienze. Ed è un libro che, sì, è di astrologia, ma si apre anche a chi non conosce l'astrologia, perché volutamente, questa è stata una scelta mia, ci si può ritrovare a seconda delle fasi della vita, degli anni. Lungo il libro si trovano gli anni chiave, 42, 51, poi li vedremo strada facendo. Quindi, bene o male, un po' prima, un po' dopo, sono delle fasi, dei riti di passaggio, a cui noi, diciamo, in un modo o nell'altro, siamo costretti ad attraversare. E uso la parola costretti, perché oggi come oggi c'è quasi la paura, a partire proprio dagli astrologi, di parlare di destino. Il destino esiste. Io non credo, questa è una mia posizione, non ho mai creduto nel libero arbitrio, credo in come io posso gestire un evento, ma che me lo vado a scegliere, almeno per la mia esperienza, non è stato molto veritiera come cosa. E quindi, in realtà, questo libro che di astrologia tratta, però è un libro che si apre alle moderne teorie della psicologia contemporanea, soprattutto quella dei cicli di vita. In modo particolare, a me interessa molto approfondire i cicli che sono legati al rapporto tra crescita psicologica e spiritualità, nonché il rapporto con i riti di passaggio nelle varie culture cosiddette non tradizionali, una volta venivano chiamate culture primitive, con un pregiudizio etnografico, scusatemi, etnocentrico veramente grave, e quindi è stato un lavoro, un percorso che io ho fatto nel corso del tempo che, potrei dire, in realtà è stato un incrocio continuo di conoscenze, di elementi, di sperimentazioni proprio, che mi hanno portato poi a capire, a comprendere che esiste un linguaggio comune. Allora, l'astrologia, io parto dall'astrologia, ho iniziato a studiarla ormai più di 40 anni fa, avevo 14 anni quando ho comprato il primo libro di astrologia ed è una cosa che non mi ha mai tradito. È brutto dirsi, 40 anni sembra, e prima parlavamo che eravamo stati qui, c'era, non mi ricordo, ecco, tu, che dicevamo appunto che venire qui in questa libreria era un po' come una sorta di, non lo so, per me era una gioia tale, perché vedere tanti libri, parlare poi chiaramente con il fondatore, chiaramente, è stato un... Sì, Amedeo. Sì, Amedeo, certo, è stato, noi quando si entrava qui si entrava veramente in una sorta di rito di iniziazione, se si era antipatici c'era poco da fare, cioè, andavi via, non c'era, non c'era, diciamo, il marketing non era il suo forte, però era un modo per conoscere l'astrologia, un modo per conoscere l'astrologia e poi tutto quello che era collaterale. Io in tutti questi anni posso dire che l'astrologia è l'unica cosa che non mi ha mai deluso nella vita, non mi ha mai tradito, non mi ha mai abbandonato, anche nei momenti più duri, perché? Perché l'astrologia mi permette di capire, permette a tutti noi, essendo un discorso ciclico, che quello che arriva poi prima o poi va via, nel bene come nel male, e quindi non c'è un momento no in assoluto come non c'è un momento sì in assoluto, sono solo i cicli a cui noi siamo destinati sin dalla nascita che semplicemente potremmo dire come un tappeto, srotolano il loro colore, la loro trama nel corso della vita. I famosi fili delle moire che intessevano queste moire riguardo al nostro dessino, noi li troviamo nell'astrologia. Per me l'astrologia ha ancora una funzione predittiva. Molti dicono l'astrologia non deve fare previsioni, no, e che deve fare? Cioè, nasce così, ma la vogliamo praticamente. Chi dice questo è perché non conosce l'astrologia, non l'ha studiata. E poiché oggi, qui è una mia nota polemica voluta, è una nota polemica e voluta, ok, è una nota polemica e voluta. Devo dire che molte persone che fanno corsi di astrologia in realtà non fanno astrologia ma fanno una psicologia a buon mercato, dove non si affronta il problema principale che è quello del calcolo del tema natale. Chi non sa calcolare il tema natale non conosce l'astrologia perché l'astrologia è fatta proprio di quei calcoli. Quei calcoli mi aiutano ad entrare nella trama, nel percorso astrologico. Poi certo, il computer è utile a tutti, io non dico che adesso bisogna fare ancora i calcoli a mano, ma la mia generazione astrologica faceva lunghi calcoli a mano. Io ho imparato il calcolo dei sestagesimali grazie all'astrologia. La mia insegnante di matematica del liceo era sempre sconvolta del fatto che era l'unica parte della matematica che io avevo studiato, capivo. Dice, non è possibile, cioè è una cosa che non si è mai spiegata. Io dicevo, è l'astrologia. Avrà pensato cose non molto sane sulla mia, come dire, sulla mia capacità di studio. Però, io trovo molto interessante che l'astrologia sia un discorso che parte dal passato per approdare al futuro. Quindi, chi studia astrologia partendo dallo studio della tecnica e se non si studia la tecnica non si può arrivare a un risultato. Oggi pare che la tecnica studiare le basi di un qualche cosa sia superato in tutte le discipline. Oggi si vuole arrivare subito diciamo dall'altra parte e questo è pericoloso perché non c'è il tempo di maturare una conoscenza. Io ormai corsi di astrologia quasi non ne faccio più per questa ragione perché molte persone non studiano l'astrologia. quando dico disegnate il tema natale a mano mettete quel pianeta lì quel pianeta messo in quel posto vi inizia a far pensare vi fa acquisire una forma mentis astrologica altrimenti siete degli esecutori allora meglio un computer fa delle analisi migliori. Essere astrologi significa da un certo punto di vista essere persone che sono si sono potremmo dire hanno attraversato l'astrologia né più né meno di come fa uno psicoterapeuta. Esistono tanti tipi di psicoterapeuti di psicanalisti eccetera c'è chi applica un modello e non si pone la domanda ma cosa sto facendo è realmente valido e c'è il terapeuta purtroppo sempre più della vecchia formazione quelli che arrivavano anche da lauree che non erano specificamente in psicologia considerate che Musatti il padre della psicanalisi italiana era laureato in matematica c'è una persona che comunque da un'altra prospettiva però era abituato a risolvere problemi non ad applicare da un certo punto di vista come dire dei modelli e questo è molto interessante a maggior ragione poi per l'astrologia l'astrologia non ha un modello cioè noi ci siamo creati la scuola dell'astrologia psicologica dell'astrologia karmica ma in realtà il modello è unico se non si mastica quel modello iniziale tutto il resto è come dire è attaccare delle etichette a un qualcosa che non ha valore invece studiare l'astrologia ma studiarla sul serio ma iniziando proprio dal calcolo del tema natale e disegnare su un foglio bianco i vari pianeti i vari aspetti che intercorrono tra essi guardate vi dà una capacità di sintesi ma soprattutto vi dà la capacità di vedere oltre è veramente una chiave per penetrare il futuro nel senso anche previsionale ma oltre che poi la nostra personalità io per tanti anni prima di tutto io quando inizio una qualsiasi terapia se non mi danno il tema natale non la inizio se nel momento in cui sto parlando al telefono guardo il tema natale non mi piace la mia lista di attesa diventa di otto mesi poi vi dico c'ho una lista perché ma perché so che non posso creare una relazione l'idea che si può andare bene per tutti è un'altra grande illusione contemporanea non si può andare bene per tutti questo vale per un insegnante vale ancora di più per un terapeuta e un astrologo anche come in realtà spesso si dice l'astrologia non funziona no sono gli astrologi che non funzionano perché il sistema proprio dell'astrologia è un sistema abbastanza complicato e nello stesso tempo direi perfetto siamo noi che possiamo sbagliare con quelle che sono le nostre aspettative le nostre proiezioni le nostre illusioni la voglia di catturare l'attenzione altrui io continuamente leggo io ultimamente tendo a stare zitto sui social perché altrimenti potrei veramente ma lei quando leggo che ne so di qualcuno l'astrologia antica è la vera astrologia io ricordo sempre Hegel che diceva di cretini nell'antichità ce ne sono stati tanti quanto nella contemporaneità nel senso che non è che ciò che è antico è migliore di ciò che è contemporaneo bisogna fare molta attenzione quando un astrologo dice io faccio l'astrologia pura antica e non uso urano nettuno e plutone dico beh allora non ti devi far curare da un medico all'opatico ma devi andare da uno galenico che manco ti opera perché siamo andati avanti io mica vivo in una palafitta magari sarebbe pure meno problematico trovare una casa però tendenzialmente vivo oggi in un palazzo che ha un ascensore quindi mi evita di fare le scale e affaticarmi eccetera eccetera tutto ciò che va avanti sembra che ad alcune persone faccia paura in genere poi pure il discorso dell'astrologia antica è ancora più medievale rinascimentale io sento dire hai delle cose che non stanno né in cielo né in terra perché perché molto spesso si applica un modello senza avere le conoscenze filosofiche filologiche perché la traduzione di un testo a volte può essere scorretta soprattutto di un testo astrologico dove magari chi l'ha tradotto non è un esperto di filologia l'unica in Italia è Lucia Bellizza che devo dire è una delle astrologhe antiche tra le più importanti secondo me ma è una docente di filologia se ricordo bene e quindi chiaramente ha una una capacità di analisi e di analizzare il testo in modo profondo e non è soprattutto una nazista dell'astrologia antica e questo vale per tutte le astrologie però questo libro questo che è il mio libro e nasce appunto con la voglia col desiderio di far riflettere sui passaggi della nostra vita sicuramente è utile per gli astrologi perché si trovano delle indicazioni ben specifiche riguardo le fasi della vita e quindi sono degli spunti per applicare poi delle eventuali altre come dire trasformazioni e mi verrebbe da dire anche come dire portare avanti questo discorso in chiave estremamente personale in base a quella che è la propria esperienza mentre per chi non conosce l'astrologia o la mastica poco è un modo per capire come nelle differenti fasi della propria esistenza c'è la possibilità c'è l'opportunità di trovare praticamente come dire delle esperienze un po' comuni a tutti che sono dei veri e propri cambiamenti sono dei veri e propri come potremmo dire passaggi da un da un da un'immagine da una concezione di sé ad un'altra adesso proviamo un po' a vederle allora io parto nel libro dai dal ciclo di della luna di marte il luna e marte in realtà sono i due pianeti che più di ogni altro rappresentano il nostro potenziale istintivo la luna rappresenta i nostri istinti e diciamo la nostra emotività istintuale e poi certo è legata alla figura materna tante altre cose ancora marte invece è l'attivatore dello zodiaco accende quello che trova marte non dà esperienza dà solo fuoco a quello che è stato preparato dagli altri pianeti noi stiamo avendo adesso fra qualche giorno marte finalmente uscirà dal segno dei gemelli dopo sei mesi diciamo molti di noi non l'hanno particolarmente gradito perché sei mesi di un di un di marte in un segno significa che te le fa passare tutte per chi di noi è nato negli anni a cavallo tra gli anni 61 62 70 si è trovato la quadratura di marte a urano e plutone natale che è praticamente come dire un ballare continuo su tante cose e molti dicono a marte ha un valore negativo no non ha un valore negativo bisogna vedere cosa ha trovato se io nel mio tema natale avessi avuto urano e plutone ben messi le cose andavano molto meglio se ce li ho magari già di loro problematici mi ha portato fuori mi ha riacceso quelle problematiche e in un modo o nell'altro mi ci ha fatto confrontare i transiti di per sé anche il più potenzialmente cosiddetto negativo parola che pure questa non si può più usare dice non armonico che significa sempre quello è poi cioè ci sta questo ormai aggiustare i termini no ci sono dei transiti pesanti però se io me lo gestisco con una certa consapevolezza se io so che c'ho un arco di tempo nel quale devo affrontare quelle cose allora le possibilità che ho sono due mi ci rassegno dico ok aspetto che passi due cerchiamo di capire perché proprio in questo momento stanno venendo fuori cosa ne posso fare tre proviamo a vedere se questa cosa questo transito mi dà anche una via di uscita verso qualcosa di nuovo ecco ciò che ci dà l'astrologia quando gli antichi babilonesi guardavano il cielo per fare l'oroscopo del re all'epoca non c'era un'astrologia strettamente personale al re chiaramente cosa dicevano si puoi andare in guerra no non ci puoi andare ci puoi andare perché puoi fare questo però attento a quest'altro la valutazione finale poi non è che era la scelta che l'astrologo diceva se andare o meno era avere in mano da parte del re del monarca queste conoscenze che miste ad altre decideva andata in guerra o meno questo è uno dei tanti esempi che posso fare non era tanto diverso nell'antico Egitto certo gli astrologi spesso non è che hanno fatto il detto crepile astrologo cioè spesso loro hanno soprattutto nel medioevo e nel rinascimento in modo particolare non hanno avuto vita facile quando qualcuno alla corte di un grande signore magari di qualche città-stato italiana ma non solo sbagliava le previsioni rischiava di brutto tant'è che nacque il detto gli astri inclinano ma non determinano è proprio in epoca rinascimentale che nasce questo un po' per salvarsi dall'inquisizione quello era comunque condizio sine qua non un po' era per mantenere anche uno spazio che permetteva agli astrologi di evitare diciamo di essere quasi presi per degli indovini per quando alcuni di essi come John Dee ad esempio ebbe una previsione ben netta dell'incendio del 1666 di Londra e poi fu detto che in realtà l'aveva creato lui perché? Perché così andava la sua profezia veniva verificata ti ricordi nel 2020 all'inizio del 2020 cosa abbiamo detto qua che sarebbe stato un anno io iniziai con queste parole dico ecco geniale per una volta tanto non prendetevela con l'astrologo ma sarà un anno terribile marzo febbraio e ottobre saranno dei mesi difficilissimi chiaro che io non ho pensato alla pandemia ci tengo a dirlo questo che però si trattava di mesi duri con anche grandi ripercussioni economiche quello è stato così l'astrologo diciamo ha una lente sul periodo su quello che può accadere ma sull'evento specifico è molto difficile l'evento specifico a volte viene fuori grazie a un'analisi forse potremmo dire di estrema sensibilità di estrema empatia con la persona è molto facile un po' di vergenza certo ad esempio c'era Francesco Waldner che era un grandissimo ma era principalmente un veggente lui nell'ultimo periodo era diventato quasi totalmente cieco si faceva costruire disegnare l'oroscopo ad alcuni suoi allievi metteva la mano su e lo leggeva prendeva delle previsioni meravigliose ma lì stiamo parlando di qualcosa che è sulla dell'astrologia che però assieme all'astrologia può essere utilissimo allora quando luna e marte ritornando al libro si incontrano in realtà si scaturisce una grande energia un'energia che può cambiare che può sbilanciare le nostre emozioni del resto noi ancora siamo sicuramente tanto corpo ma siamo anche tante emozioni cioè io non ho mai creduto che per essere spirituali bisogna rinunciare al corpo ai piaceri del corpo questo lo dicono i preti non lo dicono i veri spiritualisti se voi ci pensate bene proprio se noi vogliamo prendere la parabola del Buddha il Buddha non ha mai rinunciato ai piaceri se non in quei famosi sette anni per capire che non serviva a niente non sarebbe portato poi non so quanto vero sia però pare che Buddha sia morto per un'intossicazione alimentare quindi voglio rire non è che ha rinunciato ai piaceri oggi c'è quasi una sorta di tendenza a voler rinunciare al piacere ma il piacere che porta alla spiritualità non il dolore se si è chiusi nel dolore non si va avanti quindi noi dobbiamo provare questo libro ha pure un po' questa funzione almeno quella che mi sono voluto dare di far conoscere che anche il periodo più nero ha una sua potenzialità che permette di guardare oltre il famigerato Saturno i famosi cicli di Saturno li anticipiamo poi dopo arriviamo al famoso ciclo di Saturno dura all'incirca 28-29 anni e va sul ritmo del 7 perché ogni 7 anni forma un aspetto particolarmente come dire un po' difficilotto a 7 anni chiaramente è il momento in cui il bambino esce definitivamente dalla sicurezza familiare con i primi anni delle scuole e se voi qualcuno di voi un po' avezzo allo studio della pedagogia soprattutto della pedagogia antica si vede che il bambino entrava a 7 anni nella scuola fino a 7 anni restava a casa oggi l'abbiamo anticipato però in genere intorno a quell'età è un passaggio importante non è un caso se voi ci pensate bene per chi di noi ha diciamo sicuramente più di 50 anni che c'era l'esame di seconda elementare che era la prima vera prova iniziatica oggi hanno tolto tutto fra un po' toglieranno pure l'esame di stato e forse pure un bene considerato come si è ridotto e si è proprio dicevo appunto che è una cosa molto interessante capire 7 anni si esce dalla fase proprio della diciamo quasi dell'innocenza dell'infanzia per entrare già in quella fase in cui ci si confronta con il gruppo il gruppo degli amici quando iniziano a esserci i primi come dire anche casi perché no di bullismo che poi noi oggi pure qui li esageriamo però o sei con me o sei contro di me per passare ai 14 anni la seconda fase che è la piena adolescenza e la consapevolezza che il proprio corpo è cambiato anche perché il primo ciclo di Saturno ho dimenticato di dirlo è molto legato alla corporeità alla materialità quindi a 14 anni l'adolescente che scopre un corpo che sta cambiando però nello stesso tempo sente la pressione di essere ancora per almeno per la famiglia per chi è intorno a un bambino questo conflitto è importantissimo guai se non ci fosse perché il conflitto che permette di capire qual è inizio è lo sviluppo reale della propria identità non solo l'identità sessuale ma anche l'identità proprio di individuo di persona che praticamente inizia a seguire un certo tipo di percorso è la prima vera crisi consapevole dal punto di vista psicologico che però passa attraverso proprio l'aspetto materiale fisico dell'esistenza 21 anni l'ultima fase la penultima fase del ciclo è una fase molto particolare a 21 anni bisogna fare delle scelte sono le scelte di tipo professionale certo perché magari si inizia a capire se all'università conviene continuare o smettere se magari si inizia a lavorare in un certo modo oppure c'è l'altro problema altrettanto forte altrettanto come dire potrei dire vibrante che è il problema molto più interessante che è quello di decidere di decidere ok scende lentamente di decidere praticamente qui lo so con degli attori presenti faccio una pessima figura e dicevo appunto che c'è un mio come dire 21 anni credo che sia un passaggio estremamente importante perché è veramente l'abbandono definitivo dell'adolescenza per entrare a piccoli passi nell'età matura l'età matura vera e propria però giunge intorno diciamo è un percorso che ci porta fino ai 28 anni 28-29 anni provate per un attimo a pensare qui tranne proprio qualcuno la maggior parte di noi 28-29 anni li ha superati più o meno giusto qualcuno restano una due persone tre forse poi altri li abbiamo superati qui mi fermo poi dirò poi che li ho superati solo io le fasi così non ma i 28 anni pensate solo per un attimo sono il momento in cui si aprono gli occhi su tantissime cose sono i momenti delle scelte più importanti scelte sia dal piano sicuramente professionale non si può più giocare si deve decidere che cosa fare sia dal punto di vista affettivo cosa voglio la libertà o il rapporto e Saturno ti dice ok e qual è il prezzo che vuoi pagare che sei disposto a pagare perché Saturno chiede sempre un prezzo da pagare ma il prezzo che si paga da un certo punto di vista è anche una sorta di investimento per il futuro Saturno è il grande investitore dello zodiaco ciò che toglie restituisce sempre e con un bel po' di interessi quindi non bisogna avere paura del ciclo di Saturno perché ci aiuta a capire tantissime cose tant'è vero che poi l'altra fase cruciale va intorno ai 35 anni più o meno i 35 anni con questo inizio del secondo ciclo 35 anni è molto importante perché è il momento in cui si fanno invece delle scelte molto pratiche e soprattutto è il primo bilancio di ciò che è partito intorno ai 28 anni il lavoro che ho scelto mi sta dando veramente delle soddisfazioni mi sta aiutando veramente a fare qualcosa avrò poi il punto massimo di consapevolezza intorno ai 42 ma perché lì interviene anche un altro pianeta che è Urano i 42 anni sono un periodo importantissimo per la vita di una persona chiaramente poi io dico questa età ma può essere un anno prima un anno dopo perché i transi non sono proprio precisi sempre allo stesso anno 42 è l'anno del grande cambiamento e quando praticamente ci si dice o dentro o fuori e quel dentro o fuori è importantissimo dopo i 42 anni si inizia siamo a metà della vita della vita media secondo l'astrologia che è 84 anni che è l'intero ciclo di Urano intorno ai 42 anni si capisce una cosa importantissima che non si ha più bisogno sempre del consenso altrui ci si libera dal bisogno di dover piacere chi ci riesce molto chi ci riesce un po' meno però la dipendenza dell'essere riconosciuti in quanto tali cambia a partire dai 42 anni ci si alleggerisce da un certo punto di vista del bisogno di essere visti perché ci si inizia a vedere molto più profondamente si tagliano molte amicizie si tagliano molte illusioni cadono più che si tagliano ma soprattutto si crea una cosa bellissima secondo me si crea quell'atteggiamento di non dipendenza dagli altri che è un continuo dire ok questo tipo di amici che finora ho come dire accettato mio malgrado adesso li cambio non è detto posso stare da solo piuttosto che ecco 42 anni la forza di Saturno la forza di Urano e anche di Giove permettono di avere la piena consapevolezza di noi e non abbiamo più bisogno da quel momento in poi di riempire a tutti i costi possiamo anche alleggerire e a volte anche essere molto solitari ma è un solo che non è un solo patologico non è una solitudine patologica ma è una solitudine come dire esistenziale un riconoscimento direbbe un vecchio psicanalista inglese Winnico e la capacità di essere da soli in presenza degli altri che è la funzione più raffinata di un essere umano ecco questi 42 anni sono veramente il punto è a capo 42 anni è la trasformazione di un percorso ed è da un certo punto di vista a mio avviso è qui che si inizia ad avviare quello che noi chiamiamo i termini junghiani la via all'individuazione del sé è qui che iniziamo a fare cose che ci piacciono di più iniziamo a essere forse anche più insofferenti alle regole più insofferenti alle persone che ci vogliono ancora sui vecchi modelli 42 anni a volte se voi leggete le biografie che ne so di persone i personaggi dell'arte della letteratura della musica vedete che spesso è l'anno di svolta magari elaborano scrivono producono cose che non riguardano più il passato non replicano più se stessi è molto difficile perché è anche un atto di grande coraggio è rinunciare a una strada sicura per entrarne in una più libera ma anche con molti più rischi perché Urano da questo è il colpo che libera però non dà sicurezze e Saturno ci dice sei pronto a pagare questo prezzo ok fra sette anni faremo i conti e dopo sette anni quindi da 42 andiamo verso i 49 si crea una strana sinergia la persona si avvicina ai famosi 50 anni spesso si vivono male i 40 l'ingresso nei 40 difficilmente nei 50 perché perché i 40 sono proprio si si ha quella svolta e quella perdita definitiva diciamo di una pseudo adolescenza o comunque di una pseudo giovinezza intorno a 50 anni Saturno ci fa capire un po' prima che siamo pronti abbiamo sotto le spalle forti anche per reggere percorsi che non sono allineati non sono ben definiti ma il grande aiuto arriva a 51 anni con Chirone 51 anni e l'anno forse guardate provate solo per il tuo 51 anni e l'anno in cui si capisce veramente si diventa maestri veramente di se stessi Chirone ci aiuta che è un piccolo pianeta scoperto neanche tanto tempo fa nel 1977 viene definito il nostro maestro interiore e anche il guaritore per eccellenza è il momento in cui noi riusciamo a capire che cosa siamo e soprattutto a contattare la parte diciamo guaritrice di noi stessi e questo è un ulteriore passo per non dipendere dagli altri 51 anni per molte persone e l'anno in cui finalmente ci si libera anche di un certo tipo di obblighi che possono essere familiari emotivi affettivi ad esempio sul piano proprio dell'affettività i 51 anni sono quelli in cui capiamo cosa veramente vogliamo magari uno spavento ci aiuta a prendere consapevolezza di ciò che è importante nella nostra vita perché Chirone funziona così Chirone è il grande guaritore dopo una battaglia dopo una guerra era colui che conosceva le tecniche di chirurgia diciamo d'urgenza era tra i centauri era quello più raffinato e quello più colto e quindi 51 anni è il momento della totale liberazione dalle persone che ci sono intorno da quelle che non ci servono mentre iniziamo a tenere quelle che veramente sono importanti e che ci accompagneranno poi fino al percorso finale facendoci capire una cosa importantissima infatti dai 51 anni in poi i transiti saranno importanti ma andranno ad incidere sempre di più sul piano come dire emozionale e molto meno sul piano fisico sul piano della quotidianità perché perché se noi abbiamo iniziato a fare questo percorso la via all'individuazione del sé la via alla ricerca di noi stessi ci porta ad avere non meno bisogni non è che poi si entra in uno stato di alterato di coscienza e viviamo di luce io ricordo tanti anni fa ti ricordi a un convegno di come si chiama di di Riccione c'era Jasmine che si nutriva di luce ma in realtà pure di qualche cappuccino ogni tanto però era una cosa bellissima cappuccino sì però cappuccino sì però era ma era un personaggio meraviglioso però questo ci ha fatto capire ci ha fatto comprendere forse lei aveva più o meno quell'età all'epoca in cui l'ho conosciuta in cui era famosa che probabilmente aveva trovato un suo percorso ora effettivamente gran parte si nutriva di gran parte di luce e poi qualche piccola caloria era sempre pur sempre una parte animale cioè noi che va nutrita però questo è un percorso che poi si porta avanti e se il proprio riesce a dare dei grandi risultati guardate 42 e 51 sono le date da segnare sul calendario sul calendario della vita perché sono quelle che ci fanno capire le grandi svolte e anche il momento 28 42 e 51 sono le date delle svolte reali della nostra esistenza quelle che ci permettono di mettere un punto e a capo ma arriviamo verso andiamo un po' più avanti e arriviamo ai famosi 84 anni 84 anni è la fine del ciclo di urano gli 84 anni è l'anno in cui le persone iniziano a tagliare i ponti con alcune cose che sembravano importanti fino a qualche tempo prima ci si lascia andare ad esempio persone che hanno sempre chiuso la propria emotività iniziano a scrivere poesie parlo dell'esperienza mia personale di mio padre cioè non è ancora 84 allora di mio padre a compimento quasi di 84 anni e mezzo ricordo e disse ho scritto una poesia l'altro po' mi stava venendo un colpo conoscendo mio padre che era era in polizia rigido sentimenti cioè voglio dire un vecchio stampo mi dà questa poesia mi sono sentito un imbarazzo oggettivamente ho provato un imbarazzo ma anche una sorpresa ed era tra l'altro una poesia d'amore dedicata a mia madre mai avrei pensato è come se a un certo punto cade l'ultima maschera cade l'ultima necessità di dover essere in un certo modo urano è la liberazione quindi quando finisce il suo primo ciclo e apre il secondo porta alla liberazione di tantissime cose e quindi porta fuori anche tutti quei talenti quei bisogni quelle sensazioni che noi abbiamo represso ci hanno impaurito abbiamo tradito e affluiscono proprio alla coscienza in modo semplicissimo ecco questo è la fine del ciclo di urano e che non significa la fine della vita significa semplicemente che da quel punto in poi si ha molta più libertà e leggerezza di essere se stessi e l'essere se stessi significa per molti versi anche essere una persona estremamente consapevole del proprio potenziale urano ci insegna questo a essere consapevoli di chi siamo cosa facciamo e forse anche quella libertà a non aver paura del giudizio altrui questa si matura dai 51 in poi posso non piacere l'importante è che inizia a piacere a me stesso è il grande atto d'amore che Chirone ci insegna per alcuni è molto facile soprattutto se c'è stato un lavoro pregresso per altri sarà una consapevolezza che arriva quasi come uno shock uno schiaffone che però risveglia e porta praticamente a recuperare il tempo delle emozioni delle sensazioni che finalmente possono essere espresse tant'è vero che io ho sempre pensato che dopo i 51 anni forse si ha anche la libertà di amare in modo completamente diverso molto più libero e meno legato al bisogno e più alla sicurezza e se c'è già una storia voi vi accorgete che proprio il passaggio di quell'età è proprio se regge se la continuiamo a tenere nella nostra vita molto probabilmente la storia giusta è quella che ci permette di essere liberi di amare senza delle aspettative senza dei grandi come potremmo dire grandi bisogni da colmare che sono poi bisogni egopatici e non bisogni di comunicazione di condivisione dell'essere due quindi io vi auguro di superare soprattutto l'ottantaquattresimo perché così almeno potete dire se il libro funziona o meno però il libro va ben oltre gli 84 quindi l'augurio che vi faccio di arrivare alla fine del libro con tutte le fasi così magari ve le potete leggere pure una per ogni anno cioè l'importante ora io credo che questo proprio questo libro che ho scritto è stato un po' anche almeno per me un modo di riflettere un po' sui miei anni passati sulle mie esperienze del resto un libro si scrive sempre in parte in modo autobiografico a meno che non è un saggio di quelli che si vogliono praticamente scrivere in relazione al come potremmo definirlo al un saggio universitario dove si portano tutte le ricerche in questo libro troverete anche molta psicologia molta riflessione sulla su tante correnti del pensiero anche filosofico perché in realtà io credo che esiste un unico linguaggio che prende poi le sfumature a seconda dei nostri bisogni l'astrologia è psicologia la psicologia è astrologia basta semplicemente leggere dei libri ad esempio io parlo sempre di alcuni autori come heisenck heisenck ha fatto una teoria sui tipi psicologici con il relativo test che è astrologico sulle quattro tipologie praticamente dei segni cardinali dei segni stagionali cardinali fissi mobili e cos'è che sto rimuovendo cardinali fissi immobili no sulle tre tipologie appunto cardinali fissi immobili oppure sulla divisione praticamente per elemento aria acqua terra fuoco ecco gran parte degli astrologi degli psicologi soprattutto dei primi del novecento fino alla metà ora non so quanto consciamente inconsciamente conoscessero l'astrologia ma voi ci ritrovate delle caratteristiche ben specifiche come non ricordare come non pensare pure a tutti gli studi antropologici i riti di passaggio poi vedete che sono proprio legati a delle età ben specifiche che noi ritroviamo in astrologia eppure ci sono delle popolazioni che l'astrologia non la conoscono non la praticano eppure le età sono quelle quindi c'è un discorso universale che accomuna questo libro e quindi proprio per questo può essere letto poi anche da non astrologi perché si trovano comunque delle delle idee e dei modi di esplorarlo e di portarlo magari per chi è psicologo nella propria pratica clinica per chi si occupa di filosofia per fare delle riflessioni e chiaramente per gli astrologi da un punto di vista strettamente astrologico io vi ringrazio di essere venuti e chiaramente a voi tutte le domande se avete delle domande ora o mai più sì forse mi chiedevo se questi cambiamenti è possibile che si verifichino non precisamente in quelle date perché a me è capitato così ecco grazie sì con uno scarto di qualche anno anno e mezzo sì perché i transiti non sono mai precisi dei pianeti ad esempio non hanno sono regolari ma non regolarissimi ad esempio ci sono dei transiti Saturno a volte può arrivare un po' prima un po' dopo è lo stesso dicasi di Urano però tendenzialmente il ciclo è quello diciamo però può essere tra i 28 e anche i 30 oppure tra i 41 e i 43 e i 44 dipende molto dall'anno e dalla posizione tua della pianeta in questo caso Urano nella tua posizione natale quindi oggettivamente gli anni diciamo io ho dato degli anni chiave però con una diciamo una sorta di tolleranza di più o meno un anno un anno e mezzo soprattutto per i transiti di Saturno Urano e Plutone e Nettuno però per quelli precedenti tipo Giove Marte lì si è molto più precisi se il mio Giove c'è il ciclo del 12 ogni 12 anni torna sulla sua posizione natale e lì è abbastanza preciso ad esempio se tu hai adesso Giove si trova nel segno dell'Ariete se tu avessi Giove adesso di nascita nel segno dell'Ariete Giove ci passa su e dà avvio a questo ciclo che si porterà avanti per 12 anni in genere è la nascita di un progetto che ha una cadenza dodecennale cioè tu nei prossimi 12 mesi quello che hai deciso di realizzare in questo momento lo vedrai crescere e il primo risultato lo avrai tra circa due anni il primo momento di crisi fra tre poi fra cinque avrai il primo grande successo per poi entrare in crisi dopo al sesto anno e poi ritorna con la stessa cadenzialità e l'astrologia un po' è anche una sorta di numerologia da un certo punto di vista aiuta a capire tantissimi tasselli e messi assieme danno appunto l'idea di quello che può essere poi una previsione fatta più o meno correttamente prego sì sì forse Loriana deve venire vicino ecco il microfono sì va bene ma una cosa brevissima intanto grazie e volevo dire che due cose la prima che è vero l'astrologia non tradisce se però a praticarla sono persone che hanno un'apertura mentale e degli studi molto molto profondi aperti al simbolico alla filosofia se no è un'altra cosa l'altra la mia domanda è cattiva preparati ed è questa ho avuto la fortuna e l'onore lui è un mio collega anche di andare da lui in analisi e scoprendone le virtù devo dire straordinarie allora il tema è quanto nella tua bravura di astrologo comprovata e di psicologo non c'entrano delle doti assolutamente personali come la tua empatia la tua voglia di conoscere la tua curiosità e anche la tua affettività cattiva eh no anzi grazie grazie di questa domanda perché in realtà apri un come dire sì cioè nel senso la curiosità per me è innata io sinceramente quando mi dicono ma come fai magari parlo dell'esperienza del lockdown di due mesi non ti sei annoiato no ho letto tutti quei libri che non riuscivo a leggere poi andavo a Colleoppio facevo cioè io non mi sono annoiato io mi annoio quando devo ripetere sempre le stesse cose anche a scuola io non faccio mai lo stesso programma sulla carta sì nei fatti no ma perché mai dovrei ripetere per 30 40 anni sempre le stesse cose perché chi lo fa lo vuole fare va benissimo ma io non lo faccio mi annoio e se mi annoio io faccio annoiare le persone che sono intorno è quel discorso che dicevo prima se io la persona non mi piace quando la sento c'è qualcosa che non risuona è difficile che riesco a creare un rapporto purtroppo molte persone invece pensano che avendo in mano una tecnica vada bene per tutti la tecnica sì che va bene ma è chi la fa noi non possiamo fare tutto fortunatamente mi farebbe molto paura una cosa del genere e molto dipende poi anche dalle fasi della vita dagli incontri che si fanno nelle varie fasi della vita forse in un periodo si può andare bene per una persona in un altro per un altro io se penso alle cose che ho scritto detto e fatto in astrologia come in psicologia 30 anni fa oggi non le rifarei neanche morto oggi le vedo come degli errori eppure all'epoca non sono stati degli errori questa è una cosa molto strana un'interpretazione astrologica o anche psicologica di un sogno ho ritrovato proprio un taccuino dei sogni di una delle mie prime pazienti con delle analisi che io facevo dei sogni gli ho detto spero di non incontrarla mai più perché mi ucciderà per strada eppure poi quella è stata tutto sommato un'analisi che è andata bene oggi per me ma forse neanche per la stessa persona però in quel momento era una sinergia tale per cui quello che io pensavo e quello che lei era pronta a prendere era perfetto io sono sempre dell'idea che questo è un fatalismo forse ma non c'è niente da fare quando una cosa è pronta arriva io poi me lo dico e poi mi danno quando non riesco ad avere una cosa proprio qualche mese fa avevo visto qui vicino sto cercando una casa più grande avevo visto una casa dico sì quella sì devo dire entrando non mi aveva entusiasmato come energia non come bellezza poi così faccio passare qualche giorno faccio una proposta chiaramente con molto rischio che non l'accettassero e non l'hanno accettata poi l'ho rifatta e cioè alla fine l'ha presa qualcun altro e mi sono arrabbiato dannato ho detto ecco povero me l'altro ieri ho saputo che dallo stesso come dire amministratore che quella casa ha dei problemi idrici su tutto il palazzo ci sono dei lavori per non so quanti centinaia di migliaia di euro ho detto ecco io mi stavo dannando do consigli agli altri però su di me e poi evidentemente non era quello il momento se poi l'avessi presa probabilmente andava tutto bene però evidentemente non ero certo poi mi sono detto ecco mercurio opposto a plutone mercurio comunicazione plutone le tubature ecco allora io avrei passato cioè certo mercurio opposto a plutone mi possono truffare e poteva essere una truffa perché è un transito lungo buonanotte però voglio dire dopo posteriori su se stessi si è bravi magari con un'altra persona se mi chiedeva un consiglio ma posso comprare casa dico beh vada bene questo momento perché questo transito in questo momento nella tua vita ti può creare dei problemi io tempo fa mi ricordo questo proprio parlando di plutone una mia carissima amica doveva comprare doveva ristrutturare casa io le dissi dissi guarda non ti conviene perché avrai un sacco di problemi di tipo idraulico cioè hai praticamente plutone che ti fa quadrato al tuo sole casa alla tua luna praticamente proprio l'ambiente casa forse non è il caso da un orecchio è entrato l'altro è uscito ma del resto quando si chiedono i consigli agli amici è sempre così beh lei mi chiama dopo un po' dice guarda ti avessi ascoltato quelli che che mentre facevano i lavori hanno rotto non so che cosa hanno fatto allagare l'appartamento sotto ha scoperto che praticamente l'impianto idraulico non era norma e quindi cioè oggettivamente c'erano dei problemi sarebbero venuti comunque fuori anche senza i lavori però si sono acuiti l'astrologia a volte ci dà indicazioni anche su cose molto banali all'apparenza ma pensate allo stress di ritrovarsi praticamente una casa da ristrutturare da capo a piedi e andarsene a vivere in un bed and breakfast per sei mesi convinta di aver comprato la casa meravigliosa che ristrutturava in un mese perché era appena stata ristrutturata doveva soltanto fare le pareti questo per dirvi no quanto poi molto stesso l'astrologia è molto difficile per noi stessi non lo è per gli altri qualche altra domanda? che anno ci aspetta? brava sì guarda in realtà questo è un anno questo 23 è un anno ecco per usare un termine molto di moda fluido nel senso che non si capisce da che parte andremo da che parte staremo i transi diciamo proprio pessimi vanno in dissoluzione assolvimento però io ho la paura che lasciano una come dire una nube di non chiarezza dove ognuno si può inserire con un proprio modo di pensare e il rischio grosso è quello praticamente di creare una grossa confusione che poi è il terreno fertile per dei conflitti non tanto nel 24 quanto nel 25 ora che ci possa diciamocela tutta ci vuole l'astrologo per capire qual è la situazione che c'è in giro io credo che tutta questa situazione che si è creata con la Russia e con altre aree chiaramente di cui poco sappiamo ma che comunque sono aree a forte impatto come dire di tensione possa portare a un sempre un più maggiore schieramento di potenze se io guardo i temi di fondazione di Cina India e Unione adesso come si chiama Russia sì perché sto ancora all'Unione Sovietica io e Russia sono perfettamente armonici tra di loro che ci possa essere un asse e creare una superpotenza che questa volta non è Oriente e Occidente ma è al centro dell'Oriente e dell'Occidente mi fa molta paura mi fa molta paura perché chiaramente può sovvertire una serie di leggi vediamo anche di concordanze politiche però è anche vero che forse può creare un nuovo modo di vedere le cose e questo potrebbe essere sicuramente a mio avviso positivo che tutti pensano che la Russia stia per cadere è una illusione anche perché c'è un'ignoranza nella conoscenza della storia sappiamo benissimo che la Russia non ha mai perso una guerra quando anzi sembrava che stava perdendo le ha sempre vinte e non venissero a dire perché a causa del freddo a causa no l'hanno vinte anche per una buona strategia poi non lo so per quale altra ragione però le hanno vinte aiutati ma qua sai se torna l'aiuto della Cina e dell'India la vedo difficile come perdita bisogna fare molta attenzione però questo è il piano diciamo materiale il piano più dal punto di vista chiamiamolo psicologico evolutivo eccetera io credo che pure qui si andrà sempre di più verso una come dire suddivisione di chi percorre una certa strada e chi si omologa sempre di più chi si omologa sempre di più forse saranno i tanti e ci sarà però una piccola la crescita di una piccola comunità che probabilmente avrà un ruolo molto importante che non è tanto quello di portare gli uomini verso la consapevolezza universale eccetera ma di fungere per certi versi un po' da grilli parlanti che potrebbero per molti versi cambiare però e unificare anche dei modi di pensare estremamente come dire lontani tra di loro una cosa molto importante potrebbe accadere proprio quando Nettuno probabilmente sentirà il passaggio di Saturno l'anno prossimo si uniranno questi due pianeti alla fine del 2024 quello potrebbe essere un momento in cui c'è una presa di consapevolezza di alcune illusioni che si sono create nel tempo e l'inizio di un nuovo modo di pensare a pensare senza chissà quali grandi però una consapevolezza diversa un tornare per certi versi è una diciamo a meno fantasie di tipo bonista questa cultura negazionista eccetera è andare alla realtà se poi guardo l'oroscopo allora io vi racconto una piccola cosa divertentissima il sito per cui scrivo Astrologia in Linea mi disse quando c'è stato l'inizio del conflitto fai l'oroscopo di Putin di Zelensky e di Biden allora di Biden già sapevo che era scorpione il tema di Putin e Zelensky Putin tra l'altro non l'avevo mai visto perché non abbiamo la certezza già è troppo se abbiamo il giorno giusto meno che meno l'ora e invece di Zelensky era tutto preciso stampo i temi natali mi dimentico di scrivere i nomi Biden sono andato sul sicuro che era uno scorpione lo sapevo ecco qua mi sono fatto vabbè è quello che è perfetto vado a vedere tra i due e dico eccolo guarda che quanto è cattivo guarda che c'ha questo Marte così no purtroppo il tema cosiddetto negativo era di Zelensky e non era di Putin Putin c'ha un tema con valori bilancia se è vero quel tema natale che è un tema natale cioè di una persona tutto sommato con un suo equilibrio poi non sarà così perché ci ha dato una data falsa ok io mi attengo ai dati ma certo se il tema natale di Zelensky è vero beh non è il tema natale di una persona di cui mi fiderei queste cose non si dicono eh no le dico cioè perché perché dovrei avere un astrologo deve avere certo il sempre stare vestito ma il vestire anche sempre in modo militare questo ci dice e soprattutto l'uso che fa dei mezzi di comunicazione che mi preoccupa però questo ripeto può entrare anche magari un mio modo di sentire di avvertire le cose eccetera però sta di fatto che il mio errore cioè io quei temi natali se qui ha dei colleghi astrologi che sono presenti senza dire chi di chi si tratta questi temi natali vi faccio vedere degli aspetti sono sicuro che mi dite tutti perché è un macro aspetto talmente forte talmente problematico che dite ok un attimo qualche cosa c'è che non va poi è chiaro che noi possiamo pure modificare nella nostra vita questi aspetti cioè non è detto che chi ha un aspetto terribile poi debba diventare un futuro che ne so terribile persecutore però certo diciamo voglio dire deve lavorare tanto sopra e se ti occupi di politica un po' difficile vogliamo vedere la politica italiana i temi natali dobbiamo parlare di amore beh guarda sull'amore direi che sull'amore direi che ci sono tantissime cose interessanti perché quando dicevo il discorso che si esce un po' fuori dalla fluidità questo ci vuol dire magari qualche cosa di molto importante che forse anche l'amore con questo transito soprattutto di giove che andrà dall'anno prossimo cioè da quest'anno dall'estate di quest'anno dall'inizio dall'inizio estate di quest'anno che entrerà nel segno del toro e incontrerà Urano quello potrebbe indicarci dal punto di vista affettivo un po' per tutti un cambio di rotta che significa cioè magari iniziare anche a vivere l'affettività in modo molto più concreto forse potrebbe le varie chat per intenderci potrebbero andare incontro come dire a una perdita di interesse dove c'è un maggiore bisogno di fisicità fisicità nell'incontro beh era ora cioè era ora evidentemente c'è un ma perché chiaramente questo virtuale può andar bene fino a un certo punto tutto ciò che è virtuale può servire ed è utile ma non deve diventare un sostituto perché altrimenti come io ricordo tantissimo tempo fa con i miei alunni mi arrabbiavo quando loro praticamente che cosa facevano duplicavano i cd eccetera e li distribuono e ho detto guardate questo significa che voi quando arriverete da adulti al mondo del lavoro vi pagheranno poco e niente lo stage che si sono inventati è un modo per sfruttare questi ragazzi come tu non paghi il lavoro di un artista perché dici ma tanto un disco in più un disco in meno no non è quello è quello che c'è dietro tutto il lavoro perché un artista magari sopravvive comunque ma il fonico il distributore c'è tutto un indotto che loro non capiva è lo stesso coi libri proposte proposte di libri da pubblicare recentemente leggendo una di queste di queste proposte siamo rimasti colpiti da qualcosa che ci sembrava già noto già siamo andati a verificare avevano copiato il 70 75% di altri libri nostri allora abbiamo abbiamo alzato il telefono abbiamo detto scusi Sam ma lei che ha copiato qui 20 pagine qui 10 pagine la risposta sai qual è stata ma perché non si può fare ma anche di assoluta carmica è una vergogna a parte a parte ricopiare mettere in rete libri che a noi sono costati centinaia di migliaia di euro veramente perché sono libri rari traduzioni difficili eccetera li copiano li mettono lì gratis eccetera è come andare in casa di qualcuno aprire la porta senza senza sfondarla capito perché pigliano un libro un fotografo non lo mettono in rete gratis noi abbiamo fatto una ricerca tradotta pubblicata corretta aggiustata stampata eccetera eccetera e non si può fare niente non si può fare niente chi legge questo libro non ufficialmente come dire sui canali va incontro a dieci anni di guai terribili a far più la superstizione che non la razionalità beh guarda io questa cosa l'ho sperimentata sulla superstizione tantissimi anni fa in una scuola di Nettuno insegnavo in questa scuola dove ero stato preso di mira dalla preside e dal diciamo di chi era intorno alla preside lo chiamavano il circolo delle vedove perché erano tutte vedove chiuse nel loro mondo ce l'avevano a morte con noi che venivamo da Roma perché effettivamente eravamo tutti poi bene o male di passaggio saremmo andati via ci rendevano la vita difficilissima questa mi mise un orario prima e ultima ora cioè io pregando dovevo stare al Nettuno alle otto del mattino e tornare alle due alla fine alle due dissi a sì dissi qui posso giocarmi l'unica carta possibile compro una bambolina di pezza compro degli spilloni e la metto nella borsa vado dalla preside dico senta preside io ho bisogno dei tempi che mi devo dedicare a degli esercizi personali do la botta alla cosa e faccio cascare la bambolina con tutti gli spilloni oh mi scusi mi scusi e la prendo allora è l'unico anno in vita mia che ho avuto due giorni liberi a settimana la cosa divertente però era un alberghiero mi ricordo ancora che i miei colleghi quando passavano gli uomini le mani nelle tasche qualunque cosa gli ho chiesto in quell'anno in quell'anno qualunque cosa gli ho chiesto non ti preoccupare ok va bene quello è stato l'anno ma sai cosa perché in realtà tutto sommato noi siamo superstiziosi anche più si è razionali più si è superstiziosi è un paradosso perché l'eccesso di razionalità vuole tenere chiusa qualcosa che sfugge dalle mani quindi questa cosa a me è divertito tantissimo quindi dicevo sul libro se mettiamo una cosa del genere poi chi più delle edizioni mediterranee che pure c'è libri di magia con un piccolo talismano che non sanno bene potrebbe essere una buona idea ok e quindi dicevo per quello che riguardava l'amore più o meno potremmo cercare di capire come ci sarà probabilmente un cadere un po' di questa iper comunicazione virtuale basata su nulla perché il segno del toro è scomparsa veramente gli affetti i rapporti i rapporti con le persone non ci sono più io mi trovo veramente in grande difficoltà ecco stasera qui c'è un'atmosfera meravigliosa lasciatomelo dire proprio si respira un'altra aria meno male facciamoci un applauso abbracciamo baciamoci facciamo perché veramente è una roba questa non capita più non capita più purtroppo e io sono io che nella mia vita mi sono sempre divertito non ho mai lavorato io non ho mai lavorato nella mia vita mi sono divertito non vedevo l'ora adesso ma è finito tutto ma non perché mi sono invecchiato perché l'entusiasmo è sempre quello proprio perché non ho più il rapporto con nessuno non esiste più fate molte piccole e grandi onorevoli eccezioni no ma per carità no 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 non ci sono librerie e non ci sono librai questa è la e qui Amazon per fortuna devo dire che c'è Amazon per certe cose che non che è l'unica che ha tutto un catalogo quando quando alle grandi librerie abbiamo fatto riunioni abbiamo detto l'unico modo per combattere e fare qualche cosa contro Amazon è avere i libri se voi non avete i libri non potete fare niente Petrinelli che ha comperato un'altra piattaforma eccetera eccetera meno male così in questo modo voi siete già grandi già forti con quest'altra ma noi non possiamo mica pensare di fare concorrenza se già partite così cambiate mestiere ok se non ci sono domande sì dimmi dimmi sì nell'oscurità guarda io Plutone tra l'altro lo sperimenteremo a breve perché il primo passaggio sarà tra pochissimo per tre mesi soltanto però nel segno dell'acquario il segno dell'acquario è il segno delle ossessioni quindi io credo che molte ossessioni andranno a mille che può essere l'ossessione del controllo l'ossessione della scienza Nietzsche non vi ricordare non vi voglio ricordare diceva non sostituite la fede in Dio con la fede nella scienza che non cambia assolutamente nulla e noi ci stiamo sempre più avvicinando a questa visione come dire dogmatica della fede della scienza dove nulla può essere come dire contrapposto nulla può essere messo in discussione la scienza nasce dalla esatto la scienza nasce proprio dalla metterci in discussione in relazione a determinate cose ma questo vale anche nella letteratura ma anche nei rapporti interpersonali una litigata può essere molto più sana del vogliamoci bene come del resto dire io e te non abbiamo nulla più da dirci scompari cioè è molto più sano di far finta di volerci bene questo political correct probabilmente con Plutone in acquario potrebbe diventare veramente una vera e propria sorta di eccesso di come dire controllo però nello stesso tempo io penso che vedendo l'aspetto positivo di Plutone in acquario perché considera che poi quando Plutone quando Urano passerà in gemelli farà un trigono a Plutone in acquario quello potrebbe essere un buon modo per scardinarci forse da tutto questo peso dal political correct dall'eccesso di scientismo eccetera che poi è quello che ci insegna la storia noi passiamo da momenti io mi ricordo ancora gli anni 80 ma perché ti aspetti che non siano traumatici i prossimi se ne facciamo finta di niente però magari saranno traumatici in modo completamente diverso da come sono stati sperimentati in passato e vi dico pure di più c'è la possibilità quello che a me preoccupa particolarmente in questi cambiamenti psicologici chiamiamoli così sul piano proprio della coscienza collettiva e che molto probabilmente questo passaggio verso il nuovo perché urano è il nuovo e urano è acquario e la consapevolezza di una nuova prospettiva potrebbe portarci appunto a cambiare proprio un assetto anche l'assetto mondiale e questo potrebbe essere però piuttosto che in negativo io lo vedo come qualcosa di estremamente positivo di estremamente bello che ci fa fare probabilmente un grande salto in avanti quindi Plutone in acquario potrebbe portarci questo anche non solo diciamo poi sulle nanotecnologie su tutto questo probabilmente sai chissà che già non siamo dentro a questo sistema e non ce ne rendiamo conto già il discorso che nell'agenda ci sarà dal 2035 l'obbligo della macchina elettrica ma in realtà la macchina elettrica è molto più inquinante per tutto l'indotto intorno di quanto non lo sia la macchina quindi bisogna stare attenti poi lo smaltimento però quello non è affar nostro esatto quello non è affar nostro a meno che non abbiamo la voglia di incarnarci subito ma saremo proprio sfortunati in quel caso ok va bene io vi ringrazio vi lascio la parola a Gianni grazie a voi grazie a Paolo grazie alla libreria Rotondi che ci ospita e allora vi pregherei di rimanere ancora cinque minuti perché dobbiamo brindare alle nozze d'argento quindi la sorpresa che abbiamo fatto a Paolo di avere un piccolo un piccolo drink così veloce veloce va bene con tanti auguri e tanti auguri a Paolo grazie grazie